I disturbi psichici nell'infanzia sono sempre più diffusi e si deve fare di più per il benessere dei giovani. L'associazione Veronica Gaia di Orio ha organizzato un interessante momento di approfondimento per capire come cogliere le fragilità di ragazzi e ragazze e non lasciarli soli. In ambito scientifico ormai è certo che è in corso un abbassamento dell'età di insorgenza dei disturbi psichici, insorgenza anticipata di 6-7 anni. Ci sono fenomeni anche verso i 7-8 anni di età. L'assette principale deve essere la prevenzione, tutto parte da famiglia e scuola. L'associazione è guidata dal professor Ferdinando Di Orio, da tempo attivato anche degli sportelli nelle scuole. Non ci aspettavamo questo calo dell'età che è stato veramente molto molto radicale. Faccio notare che un ospedale importante pediatrico di Roma, il bambino Gesù, ricovera bambini di 7-8 anni con problemi di automutilazione, di ferite autoinferte. Quindi non ci aspettavamo obiettivamente questo calo dell'età e quindi cerchiamo di capire da dove venga, come sia stato prodotto. In realtà, la realtà che ci viene sempre più sotto i nostri occhi è quella che la nostra società sta veramente trascurando il rapporto con i bambini. Questo chiama in causa i servizi sanitari, i servizi sociali, le scuole e anche le famiglie che spesso di fronte a un disturbo psichico sono impreparate, spesso nemmeno lo ammettono. Magari il mal di testa, una gamba che fa male, si va subito allo specialista. Per un disturbo psichico si fa fatica. I dati parlano chiaro. Gli ha snocciolati la dottoressa Maria Pialeggio, direttore di neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Ci sono sempre più casi e si manifestano in maniere diverse. Le famiglie, rispetto al passato, hanno però una maggiore consapevolezza. Sono aumentati i casi di emergenza, urgenza psichiatrica, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti autolesivi, idee suicidarie, disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, disturbi del comportamento, della condotta e quindi siamo in prima linea per la presa in carico di questi ragazzi e dove è importante la prevenzione. Rispetto agli anni passati c'è una maggiore consapevolezza. Il problema è che la vita di tutti i giorni comporta una serie di impegni lavorativi per cui le famiglie non si rendono conto di quello che sta accadendo al proprio figlio se non nel momento in cui c'è una cozzie.